Bollettini tari mai pervenuti o pervenuti oltre la data di scadenza. Succede a Montesilvano dove i cittadini si sono lamentati del disservizio. A rispondere oggi, a chiarire il disguido, c'è l'assessore alle finanze che spiega come l'amministrazione comunale non sia responsabile del ritardo. La confusione si è creata, ma è una confusione diciamo non sostanziale ma formale. Perché? Perché il Comune ha affidato il servizio di riscossione di questo tributo alla SOGET la quale sta provvedendo alla comunicazione degli avvisi di pagamento, fermo restando che come abbiamo ripetuto più volte non si dà la possibilità al contribuente anche di pagare il ritardo, nel senso che noi abbiamo indicato in modo esplicito sull'avviso di pagamento che il contribuente, una volta che ha ricevuto l'avviso, ha 15 giorni per poter effettuare il pagamento senza alcun aggravio né in termini di sanzioni né in termini di interessi. Se da un lato la società incaricata di recapitare tutti i bollettini ai cittadini di Montesilvano ha avuto difficoltà a farlo nei tempi previsti, dall'altro molto spesso i dati in archivio sono inesatti. Se chiaramente rispetto al presupposto che era stato dichiarato precedentemente dal contribuente poi si arriva ad una modifica perché il contribuente va a vivere in un'altra abitazione per esempio e non comunica al comune, è chiaro che il dato sull'avviso di pagamento esce errato ma comunque anche in questo caso se ci sono chiaramente delle problematiche all'interno dell'avviso che il contribuente riceve e poi il contribuente tranquillamente rivolgersi agli uffici del comune perché tutti quanti siamo tutto l'ente e soprattutto il personale che lavora presso l'ufficio dei tributi sta svolgendo la propria opera in via collaborativa rispetto alle richieste del contribuente.